Mimo Tise, ex consigliere comunale, ex assessore al Comune di Quarto, ha deciso di presentarsi come candidato al Senato della Repubblica. Come mai questa scelta? Il motivo è dettato al fatto che può essere ancora più incisivo il mio impegno per quanto riguarda il territorio di Quarto. Avere l'opportunità di essere stato un assessore, di essere stato un consigliere, anche un candidato sindaco non eletto, certamente la possibilità di poter incidere maggiormente sulle necessità di questo territorio mi ha portato ad accettare con molto entusiasmo questo invito all'elezione di questa carica. Se candidato nelle liste del PM Antonio Ingroia, una scelta un po' criticata a livello nazionale di questo magistrato che prima atteneva da un processo mediaticamente importante che poi scende in politica? Questo è anche vero. I magistrati che si danno alla politica, certamente ne abbiamo esempi di Pietro, De Magistris e anche Ingroia, praticamente non ha saputo resistere a questo richiamo. Del resto bisogna dire anche che Monti, partito come governo tecnico, poi praticamente anche egli ha preferito poi candidarsi, quindi vuol dire che la politica poi a un certo punto affascina. Questo sempre si è fatto nell'interesse della comunità, della società e quindi credo che non sia criticabile una situazione del genere. Il brutto è quando invece si pensa poi a un proprio tornaconto e allora di tutti i corsi è diverso.